Alexi Abayash, siete stato nominato governatore della regione di Kursk solo di recente e avete rapidamente assunto questo ruolo, ma la vita vi pone di fronte a compiti straordinari e complessi di assistenza alle persone. Non è sufficiente solo la vostra conoscenza professionale, le vostre abilità e la vostra esperienza professionale che indubbiamente avete. La situazione attuale richiede da voi coraggio, concentrazione sull'approccio alla risoluzione di questi compiti complessi, difficili e straordinari che ora aspettano a tutti i rami e livelli del potere, compreso il governatore e il vostro team. La situazione nel suo complesso naturalmente mi è nota, tuttavia mi piacerebbe ascoltare la vostra valutazione della situazione nella regione proprio ora. Qualche parola sull'organizzazione del lavoro del quartier generale e sul coordinamento delle attività di diversi organi del governo, per favore Alexei Borisovich. Abbiamo parlato con il presidente del governo proprio di recente. Consideriamo che la decisione di un pagamento, una tantum, di 10.000 rubli ai cittadini che ne hanno bisogno sia stata presa. Le risorse necessarie saranno destinate. Inoltre bisognerà valutare anche altri danni. Per favore, insieme ai colleghi di vari reparti, inclusi quelli del Ministero delle Emergenze, dobbiamo portare avanti questo lavoro. Si intende la perdita di proprietà, la perdita di abitazioni, sarà necessario fare tutto questo su vasta scala. Come dico sempre, in questi casi bisogna lavorare necessariamente a contatto diretto con le persone, raggiungere ogni famiglia. Grazie. Grazie.